Un'altra parte fondamentale del Adobe After Effects è tutta la parte relativa alla titolazione. Infatti è possibile creare dei testi animati e non solo in maniera molto facile e con tantissime personalizzazioni e opzioni. Per prima cosa impariamo a creare un testo. Abbiamo qui in alto a sinistra sulla toolbar lo strumento di testo. Ora, lo strumento di testo ci viene presentato in due forme. Lo strumento classico per la scrittura in orizzontale e lo strumento per la scrittura in verticale. Sono lo stesso identico strumento, soltanto che il primo dà la possibilità di scrivere un testo in orizzontale, l'altro invece lo incolonnerà in maniera verticale. Selezioniamo lo strumento testo, clicchiamo in un qualsiasi punto della nostra interfaccia e ci verrà generato un livello di testo vuoto con il campo per poter scrivere. Una volta scritta la nostra parola, abbiamo tutte le possibilità di poter gestire quello che è il paragrafo del testo, quindi le opzioni di paragrafo e le opzioni del carattere in sé. Come si fa? Beh, molto semplicemente, come per un qualsiasi software di editing di testo, abbiamo i pannelli dedicati al carattere e al paragrafo. Questi pannelli nell'interfaccia di default li abbiamo già qui sulla destra sotto forma di carattere e paragrafo. Se noi li dovessimo trovare qui sulla destra, possiamo andare tranquillamente in finestra o window e selezionare character, che sta per caratteri, e paragrafo. Una volta individuate queste due finestre, possiamo andare a modificare tutti i parametri come se fosse una colonna di testo. Possiamo scegliere quello che è l'allineamento e scegliere tutti i parametri del paragrafo, mentre nella colonna del carattere abbiamo la possibilità di scegliere tra tutti i font di sistema, scegliere la tipologia di grandezza del font, se deve essere bold, italic, dove i font sono predisposti per questo, la dimensione, possiamo scegliere, in questo caso è disabilitata, ma la metrica dell'inclinazione, possiamo scegliere la distanza tra varie linee di testo, di base è automatica, ma noi possiamo tranquillamente andare a modificare questo parametro, possiamo variare la separazione tra i caratteri e possiamo aggiungere un outline. Come vedete, tutte le opzioni che io sto muovendo sono relative alla selezione, infatti, anche se è solo un unico livello di testo con due righe, se io realizzo una selezione di un tipo di testo, posso andare a modificare solo le opzioni della mia selezione. Naturalmente i parametri del testo sono differenti, possiamo decidere di riempire oltre la linea, di riempire sopra la linea e quant'altro. Ancora abbiamo la possibilità di strecciare il nostro testo con tutti i vari modificatori, nonché abbiamo i modificatori per decidere se devono essere tutti maiuscoli, tutti inclinati, tutti bold o quant'altro. Inoltre abbiamo la possibilità di scegliere il colore. Come? Con questo semplice selettore possiamo cliccare, scegliere il nostro colore e possiamo, cliccando sull'altro quadratino che troviamo sotto, scegliere il colore del nostro outline. Nel caso in cui abbiamo delle combinazioni differenti, come vedete, da un lato ha messo l'outline, dall'altro lo ha praticamente eliminato. Perché? Perché noi abbiamo detto soltanto, a parte del testo precedentemente, di avere un outline. Adesso invece abbiamo selezionato tutto, quindi ci basterà dare un valore univoco a tutta la selezione. E il nostro outline verrà realizzato su tutto il nostro testo.